Ecco fatto, il trailer di Winnie-Pooh, che bello! I propositi, sciocchino! Promettiamo di essere migliori al nuovo anno! Condividete con la vostra famiglia lo spirito del Natale e del nuovo anno con le nuovissime canzoni di Natale! Unitevi alla celebrazione dell'amicizia! Noi faremo passare a tutti un buon Natale! Con Winnie-Pooh in Buon Anno con Winnie-Pooh, auguri per tutto quello che vuoi tu! Il Disney DVD e videocassetta Ricomincio da qua Ecco che cos'era Sì sì Esclusivamente il Disney DVD e videocassetta Winnie-Pooh e tutti i suoi amici in una nuovissima avventura Winnie-Pooh in Buon Anno con Winnie-Pooh, auguri per tutto quello che vuoi tu! Venite a dare un'occhiata all'evento di Natale per tutta la famiglia! Questo speciale lungometraggio è la tenera storia di un gruppo di vecchi amici che impareranno il valore dei buoni propositi! I propos... I propositi sciocchino Promettiamo di essere migliori nel nuovo anno Condividete con la vostra famiglia lo spirito del Natale e del nuovo anno con le nuovissime canzoni di Natale Unitevi alla celebrazione dell'amicizia Noi faremo passare a tutti un buon Natale! Adesso stacco! Ania!